Sindaco di Dolo, Maria Maddalena Gottardo, la corsa femminile singolare. Buongiorno a tutti, singolare femminile sì, ma non solo la corsa femminile, è tutta una riviera questa. Dicevo prima, il responsabile è una riviera che pulsa per due giorni di passione e di corsa. È un momento eccezionale, noi siamo molto emozionati come sindaci perché ci sentiamo un po' anche protagonisti di tutto questo e siamo felici di essere stati coinvolti così da tutta l'organizzazione perché è un momento che merita sul serio di essere valorizzato e sostenuto dalle amministrazioni. Al sindaco di Fiesso d'Artico, Andrea Martellato, al quale lasciamo il microfono, chiediamo invece che cosa vuol dire essere protagonisti più degli altri comuni in questa edizione della Maratonina. Buongiorno, devo dire che è un'emozione fortissima, è un'emozione che porta ad avere anche una sensibilizzazione maggiore e un'attenzione maggiore a tutti quelli che sono i minimi aspetti, le più piccole cose, tra cui ora arrivo da Fiesso, che mi stanno addobbando tutto il paese. Ed è una cosa eccezionale perché porterà sicuramente risorse nel territorio e porterà questo territorio, il territorio della Riviera del Brenta, lo porterà come vetrina in tutto il resto d'Italia e questo grazie a questo evento e a questi organizzatori. Grazie.